Silvestro Amare, una nuova edizione, quali sono le prospettive? Siamo alla 56esima edizione e la manifestazione non ha perso il suo consueto fascino, anzi credo che anno dopo anno aumenta il proprio interesse ed è stata diventata una festa di popolo, una delle splendide tradizioni della città di Catania che ama esportare una visione positiva della città in tutta Italia. Le prospettive sono quelle di essere sempre più partecipanti e tanta gente qui ad acclamare il vincitore. Credo che sarà una delle manifestazioni più belle anche perché pare che il Padre Eterno ci aiuti con una splendida giornata.